Paolo Donne era soprattutto un grande amico, però una persona di altissimo livello per la quale io ho nutrito oltre che amicizia un grande rispetto. Abbiamo vissuto insieme diversi anni in Camera di Commercio nella Giunta. Successivamente io sono migrato nella Società Economica di Chiavari, dove lui è stato socio onorario e dove è venuto più di una volta anche per fare ricerche sull'immenso patrimonio culturale e librario che noi abbiamo in biblioteca. Tra i tanti volumi, questo che pur non è antichissimo, metà ottocento, Carlo Garibaldi, discendente di Garibaldi, sulle famiglie importanti della Liguria e questo monoscritto riportava anche proprio quella del casato degli Odone. Ecco, era questa una delle chicche per i quali anche Paolo diventava anche topo di biblioteca. Quindi ogni cosa diventava interessante, la curiosità di quest'uomo era fantastica e comunque da quando poi si è cominciato a parlare di digitalizzazione, a quel momento noi non abbiamo avuto più la tranquillità perché ogni giorno lui ci raggiungeva con qualche missiva o qualche idea per cominciare. Direi che poi è stato lui che ci ha introdotto anche alla conoscenza di Liguria digitale, la generosità di Liguria digitale anche supportata dal Presidente della Regione per fare una prova sul nostro patrimonio perché questi libri non sono di facile digitalizzazione. Sempre per merito suo abbiamo poi iniziato un grande progetto di digitalizzazione che lui stesso ha voluto spiegare e portare anche nei momenti di discussione che ci sono stati a Genova per gli inserimenti di questi cinque progetti. La verità di Parodone direi che è completa nel senso che lui ha scoperto personalmente queste cose che già si sapevano ma a un certo punto ha scoperto che c'era questa urgenza di digitalizzarle e quindi ci ha veramente convinti a questa grande progettazione e ci ha controllato diciamo dall'inizio spronandoci a entrare diciamo in questo nuovo mondo. Ora l'avvento del PNRR e l'accompagnamento di Liguria digitale ci ha permesso di entrarci prima in assoluto anche rispetto agli altri progetti proprio perché, e forse lo devo anche rendere omaggio in questo PNRR, diciamo siamo partiti con un certo anticipo rispetto agli altri. Grazie a tutti!